bene ragazzi ben ritrovati nel nostro canale e proseguiamo con il nostro esercizio tutorial a realizzare alcuni dei nostri facili componenti del nostro motore quindi quello che vedete sulla destra che adesso vi mostro in tutta la sua bellezza è un coperchio facile a realizzare le solite sottrazioni di forma andiamo a cominciare io nel frattempo nella mia cartellina ho fatto la cartella dei fatti dove sposto il free card file e il pdf realizzato di quelli che abbiamo fatto nel precedente video per non fare confusione ecco qua il nostro file creiamo il nuovo file come sempre torniamo indietro andiamo a premere f2 per copiare il nome del file e salvarlo contro di piatto valvole visualizziamo l'origine degli assi e creiamo una sorta di parallelipipedo cubo base cubo base che è fondamentalmente il nostro piatto quindi sarà un parallelepipedo 63 per 48 altezza 2 millimetri e cercheremo di farlo bello che c'è belle che centrato per cui cubo eccolo qua vista isometrica così vediamo come lavoriamo altezza abbiamo detto 2 millimetri lunghezza 63 profondità 48 ora abbiamo due modi due possibili approcci o portare centrare il nostro piatto rispetto all'origine degli assi quindi portare l'origine degli assi qua oppure spostare in tutte le nostre quote diciamo dei nostri cilindri piuttosto che fuori allungati rispetto al punto 0 io preferisco portare il mio punto origine in questo punto quindi andiamo in placement quindi posizione ci spostiamo vedete che la x più è in questa posizione quindi la y più quella verde va in questa direzione allora noi andremo in meno della metà di 48 quindi 24 e x ci centriamo vedete che va di qua in più della metà di 63 in meno quindi noi andremo la metà di 60 e 30 quindi noi faremo 31,5 premiamo la nostra lente ingrandimento per portarci in centro e noi da qua andiamo a crearci tutti i nostri fori e direi che è abbastanza facile abbiamo quattro cilindri da quattro e mezzo cilindro cilindro radius allora quattro e mezzo del foro quindi 2,25 perfetto ci spostiamo di 38 diviso 2 15 4 19 quindi cilindro in y placement posizione y 19 mm e verso l'alto di 53 quindi 25 in un mezzo 26 e mezzo verso il più verso il meno in y come vogliamo 26,5 comodo è realizzarne altri quattro complichiamoci la vita andiamo in draft selezioniamo il cilindro e creiamoci un array ok un array vuol dire io vorrei creare dei multipli secondo i miei assi allora secondo l'asse z io non voglio multipli quindi 0 e voglio un multiplo in y e un multiplo in z ok l'intervallo in x deve essere di 53 di meno 53 mm eccolo qua devo crearne almeno 2 ovviamente 1 mi fa solo il primo l'intervallo in y deve essere di meno 38 mm quindi 2 in y vedete intervallo in y di meno 38 mm però così vado a dimenticarmi questo ok quindi y meno 38 eccolo qua perfetto invece me l'ha fatto perché ovviamente mi ha poi spostato anche la mia coppia perfetto questo è un perfetto array vi dico che ogni tanto mi perdo via anch'io poi è abbastanza intuitivo freecad e ci permette di capire subito dove dobbiamo arrivare quando voi entrate in draft automaticamente vi appare questa griglia per eliminarla quando poi tornerete vedete in parte c'è quest'icona appare o scompare griglia torniamo in parte premiamo su cubo col tasto control su array e sottrazione di forme noi abbiamo fatto il nostro bel foro ora dobbiamo fare questi tre fori allungati diciamo come facciamo a farli creiamo un bel scusate cubo non cilindro un bel cubo e gli diamo le dimensioni r3 vuol dire che lo spessore di questo cubo è 6 lungo 12 più 3 di qua e 3 di quindi 12 6 18 ed ora andiamo a centrarlo quindi andiamo in posizione abbiamo detto che è largo 6 quindi ci spostiamo in x in più di 3 in meno di 3 millimetri ed essendo 18 in y in meno di 9 ovviamente dobbiamo andare a raggiare gli spigoli di 3 millimetri ora ve l'ho già spiegato in un precedente video cosa succede se noi prendiamo questi due spigoli e andiamo a chiedergli di farmi un raggio da 3 millimetri succede che la forma scompare e mi dà un errore lui dice io non posso fare due raggi da 3 millimetri quando ho uno spessore totale di 6 c'è qualcosa che non quadra torniamo indietro come facciamo a risolvere questo problema selezioniamo tutti e quattro gli spigoli visto che adesso il problema sarà risolto fammi dei raggi e mi gli fai da 2 9 9 perfetto vedete e lui mi fa questo bel lavoro ora seleziono il piatto col tasto control seleziono il mio parallelepipedo smussato ed eseguo una sottrazione di forme replico larghezza del cubo stiamo lavorando su questo è 4 lunghezza è 12 più raggio 2 per parte 14 16 lo centriamo in y a meno 8 e lo centriamo in x a meno 2 ok vedete che è bello centrato vado a selezionare i 4 spigoli vado a chiedergli uno smussettino di 1,999 gli do l'ok vado in fillet lo prendo lo copio gli dico di sì e lo incollo ora ho due forme perfettamente sovrapposte una in posizione la sposto di 7 mm in x e l'altra di meno 7 mm in x seleziono il piatto una delle due forme col tasto control per il muto sottrazione di forme stesso discorso per questo salvataggio voglio fare una cosina carina seleziono la forma spigoli tutto attenzione prima nulla si refine e true seleziono la forma spigoli vediamo se me lo fa smusso tutti gli spigoli di due decimi potrebbe cancellarsi la forma vedete è un po antipatica allora in tal caso cosa si fa si fa la cosa smusso per smusso col tasto control premuto non tutti insieme due decimi perché se si cancella poi dovete rifare il lavoro vedete è più anche se nel disegno non lo richiede è decisamente più bello modifica annulla qua gli faccio tutti 1 2 3 e 4 bisogna imparare un po a ragionare sul come gestisce gli smussi free card ok stesso discorso di qua col tasto control premuto selezioni quattro spigoli ok è stesso discorso per i fori e direi che abbiamo fatto un bel lavoro facilissimo ora non so se vi ricordate ve lo mostro anche questa è dorata facciamolo ramata stavolta quindi aspetto materiale rame ce l'abbiamo rame si eccolo qua e la nostra forma è pronta saliamo chiudiamo e spostiamoci al particolare successivo quindi valve plat e valve plat gli prendiamo gli portiamo infatti e vediamo quest'altra valvola allora questa è quella con esterno zigrinato la faremo per ultima eccolo qua un altro piattino vediamo di metterlo così perfetto voi scaricatevelo così lo vedete meglio steam chest f2 control c creiamo un nuovo file salviamolo steam chest cover eccolo qua e cominciamo a farlo allora questo è interessante io ho messo tra i facili qualche problemino ce lo potrebbe anche dare vediamo come possiamo farlo allora prima di tutto creiamoci la nostra base visualizza origine degli assi base rettangolare ci mettiamo nella vista corretta altezza 8 lunghezza 48 profondità 63 io sto usando la rotellina del mouse e 63 andiamo a modificare l'ingrandimento ed andiamo a centrare il mio oggettino quindi in y abbiamo detto 48 quindi meno 24 di posizionamento e in x 31,5 preceduto da meno perché siamo nella direzione opposta della freccia centriamo l'altezza c andiamo a fare quattro lamature quindi per fare queste quattro lamature dobbiamo prendere un cilindro andiamo con la barria spaziatrice momentaneamente a eliminare la visibilità del nostro cubo il foro è un 8 4 e mezzo altezza 3 e 5 a sua volta quindi partiamo con questo cilindro e diciamo radio raggio 2,25 altezza 3 millimetri creiamo la parte e gli diciamo raggio 4 altezza 5 ma placement posizione z 3 1,2,3 1,2,3 uniamo le due forme unione di forme unione di forme andiamo a con la barra spaziatrice a rimostrare il nostro cubo e andiamo a spostare di quanto serve il nostro foro lamato quindi in y di 19 in x di 26,5 ora andiamo in parte e facciamo quello che abbiamo fatto prima draft in draft scusate non in parte array lo voglio ortogonale z0 x distanza intervallo in x meno 53 meno 53 meno 53 perfetto distanza in y meno 38 ecco fatto prendiamo cubo andiamo in part premiamo control array sottrazione di forma ed ecco che abbiamo fatto ora cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a togliere il foro il foro diciamo questo questo svuotamento alto 2 millimetri quindi creiamoci un cubo un cubo allora 63 63 quindi 3 millimetri la distanza quindi è un 47 per 57 alto 2 millimetri cubo lunghezza abbiamo detto 57 57 57 determinato da questo 63 meno 3 millimetri di qua meno 3 millimetri la che sono 6 57 altezza stesso discorso 48 meno 3 e meno 3 prima ho detto questa non so come ho detto 5 ho detto 47 in realtà è 42 l'altezza è di soli 2 millimetri anzi l'altezza non ce ne può fregare di meno solleviamo di 6 millimetri cioè 8 meno 2 la posizione posizione z 6 millimetri perfetto e andiamo a centrare il nostro bello oggetto quindi meno 21 e ci siamo x meno 28 virgola 5 perfetto ora noi qua abbiamo un raggio 5 come vedete ok quindi abbiamo un cilindro eccolo qua da sollevare di 6 millimetri eccolo raggio 5 da spostare in y in y di 21 e in x di 28,5 28,5 ancora uguale ed eccolo qua non sono convinto non sono convinto di quello che ho fatto vediamo le misure di questo sono 57 questo è questo è 8 un attimo rendo non visibile questo allora questo foro deve essere perfettamente centrato con questo quindi quindi andiamo a vedere in array fusion cilindro 1 cilindro 2 non lo vedo c'è qualcosa che non quadra nei miei conteggi andiamo a vedere la posizione allora questa posizione deve essere infatti 38,19 vedete il centro del foro è a metà di 38 e il centro del foro per così è a metà di 53 quindi 26,5 ok comincio ad essere più d'accordo con il mio ragionamento anche per questo foro vado a rendere visibile con la barra spaziatrice il mio cubo anche per questo foro andrò a fare un array però devo dire che se faccio così verrà decisamente male quindi vado a cancellare questo cilindro anzi prima di cancellarlo vado a crearmi un nuovo cubo dopo vedrete il perché perché se io taglio la forma in questo modo e poi vado a raggiare il raggio 2 verrà una forma accuminata in realtà non è quello che noi dobbiamo andare a fare quindi creo un cubo lo sollevo anch'esso di 6 mm eccolo qua perfetto raggio 5 quindi creo un cubo da 5 mm per parte allora 5,5 vediamo se le cose sono corrette e lo vado no lo creo da 10 lo creo da 10 lo vado a centrare rispetto a y e z quindi meno 5 e meno 5 questo cilindro ricordiamoci com'era 26,5 19 vado a prendere il mio cubo vado in placement applica le modifiche in maniera incrementale e vado a spostarlo quindi quindi meno 26,5 y 19 perfetto applico gli do il mio ok vado a cancellarmi il mio cilindro e vado a creare un array del mio quadro quindi del mio cubo quindi draft array né più e ne meno quello che ho fatto prima intervallo in x 53 meno 53 eccolo la intervallo in y meno 38 array applicato prendo il cubo tasto control sull'array dal menu part sottrazione di forme ecco qua la mia forma la mia forma adesso andrà correttamente smussata quindi per fare questo devo andare a selezionare questo spigolo che come vedete non vedo non riesco a selezionarlo allora tasto destro aspetto pardon chiudi tasto destro vista stile disegno reticolo ecco che adesso io vedo gli spigoli che voglio selezionare gli seleziono tutti e quattro col tasto control e gli dico bene vami a fare un raggio anche qua gli dirò di 4,99 ok guardate che belli smussi vado a selezionare ne seleziono solo uno perché non so selezioniamo di tutti poi al limite vediamo questi smussi che sono questi e gli dico bene fammi un bel raggio di 1,99 ok guardate che bello tasto destro stile disegno faccia piena perfetto ora seleziono questa forma seleziono quest'altra forma col tasto control premuto e sottrazione di forme pafete abbiamo fatto tutto è di un bel verde facciamolo per ultimo però prima pensiamo un attimino agli spigoli quindi premiamo questo spigolo diamogli una smussatina vedete che ce l'ha fatto tutto perfetto 1 2 3 4 questi diamogli anche qua una smussatina due decimi ok e tutti questi qua intorno non fatene mai troppi insieme non va troppo bene non lo digerisce bene fricada poi magari sono mie carenze smusso due decimi ok tasto destro aspetto normale mi sta bene un bel verdone più verdone ok chiudi e abbiamo il nostro coperchietto salviamo e direi che anche per oggi abbiamo finito perché si facili facili però comunque il loro tempo lo richiedono sarà interessante fare il particolare zigrinato che richiede un approccio un po' differente velo dico ora così vi metto la curiosità io vi ringrazio per essere stati con me spero di aver dimostrato anche oggi qualcosa di interessante e vi aspetto al prossimo tutorial non dimenticatevi un like se ciò che avete visto vi è piaciuto grazie mille e alla prossima grazie grazie grazie